E' una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga un'intera generazione di giovani a non lavorare, quando dovrebbero farlo per loro e per tutti. Le pensioni d'oro sono un'offesa al lavoro, non meno grave delle pensioni troppo povere, perché fanno sì che le diseguaglianze del tempo e del lavoro diventino perenni. Grazie